Finisce il let's up, vince Cristian. Un let's up più tecnico di quello che ti aspettavi forse, insomma lui ha resistito un bel po', dopodiché una mano imparabile. Sì, è uno di quei classici giocatori che se becco online sulla nota metto fastidioso, ma non perché, perché è complicato da leggere, però alla fine alla lunga, alla lunga, si dice che forse era stanco, ha bleffato in un piatto dove non c'era senso, non aveva senso bleffare. Lui sul flop con la middle pair ti è andato in praticamente? Sì, lì era corto ormai, era 400.000 chip circa, il piatto quello di prima era stato più importante dove lui con K4, io su 992, io avevo collato il suo race con 98 suited, su 992 ha bettato flop, io ho checkato lui betta, Tarn X, io ho checkato lui betta, River X, io ho check, lui fa 400.000. In quella mano hai vinto grossomodo il torneo. Sì, sì, sì. Detto questo noi ci siamo divertiti a raccontare questo final table, penso che sia stato un torneo giocabilissimo, insomma hai fatto il tuo poker, salutiamo tutti coloro che ti sostengono immagino. Certo, saluto tutti, i miei amici Giocopiù, Strega Elisa, la mia ragazza, i miei amici. Tutti quelli che lo sopportano praticamente, noi ovviamente vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo torneo. Grazie a tutti.